Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo un po' di una notizia di attualità, sempre sul tema degli animali, ovvero è stata proposta la corrida come patrimonio dell'umanità. Per chi non lo sapesse, la corrida è un'antica tradizione basata sul maltrattamento, la tortura e infine l'uccisione dei tori in Spagna. In realtà la vera regola è che non è finita finché o il torero o il toro muore, quindi nella maggior parte dei casi però è il toro a rimetterci. E in ogni caso il torero sa quello che rischia mentre il toro, poverino, è obbligato a partecipare. Tra l'altro ci sono milioni di cittadini spagnoli e latini che sono pure contrari, però adesso addirittura è stata fatta la proposta di renderla patrimonio dell'umanità. E' stata appunto proposta di metterla come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E la LAV, altra associazione animalista, insomma, tantissimi enti stanno dicendo proprio di no a questa cosa, ovviamente anche io sono contraria, perché non penso che ci sia qualcuno a parte queste persone che l'hanno proposto, che siano favorevoli. Tra l'altro è anche una proposta proprio assurda, perché il 15 ottobre del 1978, proprio a Parigi, è stata sottoscritta la dichiarazione universale dei diritti dell'animale. Quindi è per arrossare la proposta di mettere come bene in materiale la tradizione in questo modo. Voi che ne dite salvati di questa nuova proposta? Lasciate un commento e niente, iscrivetevi per i prossimi video. Grazie. Grazie.